Le organizzazioni sindacali di categoria di Rieti insieme alle RSU Cotral, Arnaldo Proietti e Sandro De Luca, denunciano a gran voce il mancato rispetto degli accordi da parte di Cotral Spa e Cotral Patrimonio. In un precedente incontro presso la prefettura di Rieti, Cotral Patrimonio aveva dato garanzia della consegna del nuovo deposito entro settembre 2014. Parallelamente Cotral Spa ha parlato di tempi di consegna fattibili solo nel caso in cui fossero state saldate alla ditta costruttrice le precedenti fatture. Di fronte alle due divergenti posizioni nel verbale di tentativo di conciliazione era prevista come condizione indispensabile una convocazione d'incontro di Cotral entro dieci giorni al fine di avere risposte più precise e concrete. Un appuntamento mancato e i sindacati che nel frattempo avevano bloccato lo sciopero per non gravare maggiormente i pendolari sono rimasti a bocca asciutta. Il rapporto di autisti, dei meccanici e di tutti i pendolari fa riflettere ed è motivo di grossa preoccupazione per tutti coloro che ogni giorno si aspettano un servizio decoroso nei nostri territori. Dichiarano i sindacati del capoluogo che definiscono assurda la posizione della Regione Lazio che addirittura vorrebbe attestare le corse per Roma alla stazione di Farasabina, pur sapendo che i treni non sarebbero in grado di accogliere un maggior numero di utenti, ma ancora definiscono assurdo il silenzio dei politici locali eletti come consiglieri o addirittura come assessori alla Regione Lazio o lo stesso sindaco Simone Petrangeli.